In questo numero del Salus Tg. Test di medicina. A Milano 98 candidati con più di 30 anni e a Roma record man di 73 anni. Imparare una lingua straniera modifica il cervello. Psichiatri, guardie mediche, 118 e addetti del pronto soccorso. I più a rischio aggressioni. Lunedì a Milano si misureranno con i test di ingresso per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria dell'Università Statale Bicocca 5.290 studenti, quasi 8,5 volte i posti disponibili, in tutto 626. Il fascino del camice bianco non ha età, come dimostrano i dati sui candidati della Statale. Il più anziano degli iscritti e test ha 59 anni e ben 98 ne hanno più di 30. Va un po' meglio all'Università Sapienza di Roma dove saranno 7100 i candidati a fronte di 909 posti in palio e ci sono 56 anni di differenza tra l'aspirante medico più anziano che ha 73 anni e quello più giovane, solo 17enne. L'apprendimento di una seconda lingua ha effetti sulla struttura cerebrale ed è determinante l'età in cui i bambini imparano. Con un apprendimento molto precoce, infatti, lo sviluppo dell'organo è normale e uniforme. Se invece avviene più tardi, nei piccoli che hanno già dominato bene la propria lingua, la struttura cerebrale si modifica. Vengono stimolate la crescita dei neuroni e delle loro connessioni, con una modificazione della corteccia frontale inferiore del cervello. Questi risultati di uno studio congiunto di università canadesi e britanniche. Sono i medici che lavorano nei centri di igiene mentale, nei pronto soccorso, sulle ambulanze, insieme alle guardie mediche notturne, le categorie di camici bianchi maggiormente esposti a rischio di aggressione. È quanto rileva il Tribunale dei diritti e dei doveri del medico dopo il caso della psichiatra uccisa a Bari. Secondo un sondaggio effettuato dal sindacato medici italiani, su 600 guardie mediche in tutto il paese, ben 9 medici su 10 durante tutta la loro attività hanno subito almeno una volta un'aggressione e 8 su 10 ne hanno subita più di una.